Dottore Marino, l'attività continua da parte della Polizia, ora maggior ragione dopo gli attentati che sono verificati in Belgio. Numerosi, se vogliamo, gli obiettivi sensibili anche a Gela che voi monitorate giorno dopo giorno. Come sapete l'attenzione delle forze dell'ordine in generale sulla realtà di Gela da sempre è alta. In questo periodo, soprattutto ma già da qualche mese, per disposizione del Comitato Provinciale dell'Ordine della Sicurezza Pubblica e le varie forze di polizia attuano un sistema integrato, ciascuno per i propri obiettivi, per appunto non tralasciare nulla. Essendo Gela per certi aspetti molto molto importante, mi riferisco alle gecenze della raffineria, al porto, come tutti i porti all'aeroporto. Ahimè, la cronaca di questi giorni ci conferma sempre che sono obiettivi molto dedicati e anche le piattaforme petrolifere. Da qualche mese facciamo un servizio integrato di vigilanza fino alle piattaforme, sfruttando la squadra nautica e guardie di Francia e carabinieri quando ci sono i mezzi, per fare in modo che ogni giorno ci sia anche una copertura a mare per questi obiettivi. La paura è tangibile? La paura sarebbe utopistico non pensare che oramai è ovunque, perché purtroppo il messaggio che i terroristi vogliono mandare è proprio quello di non fare stare tranquilli da nessuna parte e per nessun motivo. Possiamo essere onestamente e soprattutto coscienziosamente contenti perché il dispositivo, a parere mio, è molto molto rodato, soprattutto grazie alle direttive, all'imbuto dell'autorità giudiziaria, riusciamo con le direttive del coordinamento del Comitato per l'Ordine della Sicurezza Pubblica ad avere un sistema che, ripeto, funziona e soprattutto c'è un ottimo scambio di informazioni tra le varie forze di polizia impegnate sul territorio che, per esempio, faccio un esempio molto semplice ma denota l'attenzione all'arresto di due giorni fa di uno dei due fratelli albanesi e rientrava clandestinamente dall'Albania dopo un provvedimento di espulsione del signor questore e non è facile, capite bene, se la macchina non funzionasse andarla a individuare e soprattutto arrestarlo su disposizione del procuratore capo, la dottoressa Lotte. Perciò in questo senso abbiamo avuto anche un piccolo riscontro quotidiano di come l'attenzione è alta e l'attività di prevenzione funziona. Ci sono a Gera musulmani presenti e se ci sono c'è un monitoraggio continuo? Allora, il monitoraggio noi, perché non voglia sembrare un qualcosa di specifico in negativo, lo facciamo quotidianamente con le pratiche che l'Ufficio Immigrazione, in sinergia con l'Ufficio Immigrazione della Questura, regolarmente rilasce. e vi posso assicurare che la stragrande maggioranza delle pratiche sono tutta di gente stanziale, che lavora, che ha un motivo valido per stare, oltre agli immigrati che vengono ospitate momentaneamente, tengo a precisarlo, nelle comunità che aiutano la macchina dell'accoglienza in attesa del disbruco delle pratiche.